Sono passati dieci mesi dalla simbolica posa della prima pietra sul cantiere Navale Rossini e sui suoi maestosi capannoni in legno e materiali ecosostenibili che, come potete vedere alle mie spalle, sono ormai quasi completati. O meglio, manca un mese al completamento del primo capannone, quello proprio alle nostre spalle. Una struttura davvero importante per quelli che riguarda la manutenzione, la pitturazione, la verniciatura degli yacht e delle imbarcazioni di grosse dimensioni che si trovano qui al cantiere Rossini, un cantiere che sta comunque lavorando a pieno regime, tante imbarcazioni provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo si servono di questa importante struttura internazionale. Sono stati mesi molto intensi e molto impegnativi per noi su due diversi fronti. Il fronte della ristrutturazione, il completamento dei lavori di costruzione degli uffici e dei capannoni per la pitturazione e i lavori a bordo delle barche, le tante barche che sono arrivate a partire da ottobre e novembre di quest'anno. Per quel che riguarda il capannone siamo agli sgoccioli, siamo agli ultimi ritocchi? Sì, ormai la struttura è completata e stiamo completando gli impianti. Attualmente abbiamo una decina di imbarcazioni e lavori, proprio oggi metteremo in acqua un 33 metri, ma il posto a terra verrà subito a gennaio occupato da una nuova barca, un 40 metri che arriverà appunto l'8 di gennaio, quindi siamo al 100% della capacità. Capannoni, imbarcazioni ma anche uffici, ci troviamo proprio in una struttura che è ormai di imminente inaugurazione? Sì, proprio domani ci trasferiremo con tutti i nostri dipendenti all'interno dei nuovi uffici, uffici realizzati con una struttura interamente in legno, uffici moderni, molto funzionali, all'avanguardia. Le imbarcazioni che vediamo da dove provengono? Un po' da tutto il bacino del Mediterraneo, vengono dalla Grecia, vengono dalla Spagna, dalla costa occidentale dell'Italia, dal sud della Francia, un po' veramente da tutto il Mediterraneo. E questo sottintende anche l'importanza e il richiamo che ha questa struttura? Certo, Cantieri Rossini è una struttura di livello internazionale e funge da richiamo per tanti clienti e tante persone di tante nazionalità diverse che poi fanno base a Pesaro durante tutto l'inverno.